Cominciamo a fare un rapido calcolo di quanto possono essere 200.000 ore. Pensate ai 200.000 ore di musica, che meraviglia che sarebbe praticamente quasi tanti 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 mesi anni. Alessandra Badulescu con 200.000 ore di Anamena. Sola, io ti aspetterò a cena da sola, in mezzo al fumo di mille parole, di canzoni che non hanno età. Sulla pelle il tuo sapore non si muove, siamo bravi a continuare a farci male. Io che non cercavo un ragazzo di strada, poi mi distratta vendendomi un'altra bugia. Quando la notte arriva, mamma non ama un fiore. America Latina, Cuba Libre Amore. Quando la notte arriva, 200.000 ore. Amarsi un'ora prima e dopo lasciarsi andare. E' un'altra sera che se n'è andata. E' questa attesa che è disperata. E' l'aria fredda di una giornata, così di fretta. Quando la notte arriva, mamma non ama un fiore. America Latina, Cuba Libre Amore. Quando la notte arriva, lui 100.000 ore. è un'ora prima e dopo lasciarsi andare. Ah, la notte arriva. 200.000 ore Amarsi un'ora prima E dopo lasciarsi andare A noi non servono 200.000 ore Sono bastati anche pochi minuti per ascoltare Per dirti che sei molto brava Che è una canzone adatta anche a te, alla tua età È una canzone molto così fresca, giovane, allegra Sì, molto movimentata Porta allegria, l'hai scelta per questo motivo? Sì, io amo il latinoamericano Sì, infatti si vedeva anche che ti aiutavi con i passi di danza Ti senti così Molto free, molto libera e anche gioiosa Grazie Grazie a te